Corre veloce la polizia provinciale di Piacenza, lo fa nonostante una forte carenza di personale. Dal 2014, dopo il depotenziamento delle province con la riforma del Rio, gli agenti dell'ente di Corso Garibaldi sono 15, secondo gli standard regionali dovrebbero essere 26. Certamente non abbiamo più i numeri che avevamo prima. Comunque noi, con i numeri che abbiamo in un'organizzazione molto molto puntuale, molto stretta, abbiamo avuto l'anno scorso un grandissimo incremento dell'attività svolta. Gli agenti sono pochi, all'orizzonte non si prospettano nuove assunzioni, eppure l'attività risulta in aumento. Rispetto alla vigilanza stradale sono circa 11.000, più di 11.000 i verbali elevati, tenendo conto che abbiamo anche il ponte di Castelvetro, quindi il sistema di controllo attivato sul ponte di Castelvetro, dove abbiamo registrato più di 7.000 verbali. Le telecamere installate sul ponte di Castelvetro, attive dal giugno del 2020, consentono di classificare e rilevare tutti i veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate, per individuare i mezzi con carico eccessivo e salvaguardare così l'integrità del viadotto. Tra i vari interventi, l'anno scorso la Polizia Provinciale ha fermato un proprietario di cane a travo, che utilizzava un collare elettrico sull'animale per punirlo con scariche improvvise. Sul fronte della peste suina, invece, la Polizia Provinciale rassicura che nel Piacentino la situazione è sotto controllo, a differenza delle zone limitrofe, ad esempio Genova o Alessandria, dove ci sono focolai di cinghiali positivi al virus. Si procederà ad abbattimenti e all'installazione delle recinzioni nelle zone di confine tra Piacenza e gli altri territori. Occorre tamponare il problema per evitare che la malattia si diffonda anche a livello locale, danneggiando gravemente la filiera della carne suina. Grazie a tutti.